Salve compadre Guaralas, sono Starlux e questo è Paird's Viking, Paird's Viking Age Knight, un gioco di... Ah è la mia gamba, è un gioco, è una mod per Alive 2 che ho scoperto, poi compagalla, è bella questa è, è bella di papà, andiamo, è la mia gamba, sì è la mia gamba destra, Ok, il motivo di questo gioco è quello di... Prendi i tesori dai nemici, che sono i nemici, e portarli nella propria base No, cazzo cazzo no Ok andiamo I portarli nella base e... Cazzo cazzo no 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 Vai! Vai! Aiuta! Merda! Ancuno... Poi vorrei prestare un reclamo... Mi pare che non è morto dentro... Oddio, questo sta qua... No, però anche del lato... Il lato è Cableshaker... Oh, un bastardo... Un bastardo... Dove cazzo? Un bastardo... Un bastardo... Un bastardo... Un bastardo... Un bastardo... Un bastardo... Ah, stato! Ah, dai, amato! Ah, paracuolo! Ah, non ci sono mille! Ah, no! Ah, l'ho ucciso! L'ho ucciso me, io ho ucciso lui! No, non si può! Vediamo le spade da lontano. Mia! Non scopo! 3-6, non scopo! Ok, vediamo! Si guarda l'arma, ok, possiamo andare tranquillamente. Ok, aiuto a si metterla là. Ah, andiamo! Posizionato, boda! Qua si fa... non si corre... si corre la... Tipo... ... 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 Facciamo il... non mi piace stare come pirata perchè è troppo difficile usare i pirati. C'è qualcuno qua, un manigiano... Ne abbiamo due. Dove ci sono? Dove ci sono? Stato... Cazzo. Oh, il mio braccio! Oh, il mio piede! Oh, il mio piede! Nooo, bastardo! Com'è pot... non è possibile. Ecco, ho un punto. Ok, faccio schifo. C'è no. C'è no. C'è passiamo un po' zlan. C'è passiamo anche. C'è passiamo un po' zancio. C'è passiamo il palazzo. Sì, li faranno con i nostri trezzi! Oh, prenderli! Ow! Cazzo, che dolore! Chiamiamo il cavaliere che è meglio! Stanno rangelando quella... Ecco, lo so... Mh, dove è scuro! Ok, cos'è? Ci stanno ammazzando! Eh sì, mi chiama il... Cazzo! Cazzo, cazzo! Cazzo, cazzo! Cazzo, cazzo! Ok... Oh... Stare, cazzo! Oh, cazzo, cazzo, cazzo! No! No! Oh, bastardo! No! 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 Bastardo! O dunque! Oficiali! Cazzo! Che ecc! Que chat! Che chius parameter! Che! Che! Get the Barathing's treasure! First case! Oh, buh! Rampage! Rampage! Unstoppable! Escort thy treasure bearer home safely! Ah, perché trovi? Come! Come! Oh! Oh, finalmente! Finalmente! Eh, no! Ma parto! Aspetta! Aperti! Santa! Unstoppable! Aperti! Vai! Prendi il tesoro di vikings! Prendi il tesoro di pilota! Qui è! O開lo! Non so... Un pago da pago! Non vede, ma... Me manca il leato! C'è, ho potuto trovare una pirata per 5 ore! Oh.. Ah! Oh, bella! Heee... Rampage Un bambino che esco, non so perché. Ok, c'è una cosa qua... C'è uno! Ah 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 ah! Un bambino che esco! Un bambino che esco! Cazzo, c'è la giusta aperta, sennò qua ci inculano sangue. Oh, poca vita! Via più veloce! Oh, vita vita vita! Bene, su, ci corre! Dammi vita! Ok, pian pianino... Non c'è su, non ci segue... Ok, si vede tutto. Aiuto, no! Non mi hai visto, non mi hai visto. Ciao! Aiuto! Aiutami! Coprimi! 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 Un bambino! Un bambino! Un bambino! Ok, cos'è me dai! Parca che cosa sta! Un bambino! Ehi, ehi! Un piano... Un piano da non! L'ultimo ce l'ho io, però ce l'ho... oh mio dio non voglio perdere, no 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 no! Dove di prendere questa porca tua, no no! Dove di prendere questa porca tua, no no! Cosa? Criudiamo tutta. Vedete? Non si chiude. No! Ah, i pirati hanno vinto! Hanno vinto i pirati! Ok, campani di guerra da Zayf Tog, vi saluto al prossimo video! Ciao!